Ebbene sì, se ne è parlato per tanto tempo, rumoreggiata, sospirata, chiacchierata, è vera, è falsa, è presunta, non lo sapevamo più, ma adesso è ufficiale, è ufficiale la serie di Resident Evil, serie tv in live action, prodotta da Netflix. Sarà una serie di otto puntate e la sceneggiatura sarà firmata da Andrew Dove, che probabilmente è un nome ignoto e più, ma si tratta del co-showrunner e produttore di Supernatural, la fortunata serie CW che è arrivata quest'anno al termine della sua corsa. Il soggetto di questa serie è molto particolare, perché quando si rumoreggiava in merito a questa serie si diceva ogni stagione sarà basata su un titolo del videogame, c'erano tanti rumor, tante voci di corridoio, che io come al solito vi invito a prendere con le pinze. Perché adesso è arrivata l'ufficialità e in effetti la storia sembra essere completamente inedita. Io non sono un esperto della mitologia residentivogliana, non lo sono mai stato perché da ragazzino, da bambino, anzi, mi scagazzavo nelle mutande al pensiero di giocare alla saga. Ho recuperato un po' in seconda battuta, ma ammetto che non è proprio il mio genere preferito. Questi zombie molto, in realtà i primi giochi erano survival horror, ma poi sono diventati sempre più action, non mi hanno mai fatto impazzire. Poi sono zombie di derivazione scientifica comunque, io sono più per il soprannaturale non spiegato. Ammetto comunque che il potenziale narrativo è tanto, è ricco e qui si sceglie una strada abbastanza inedita, esattamente come successe con i film. E forse non è un caso, perché tra i produttori della serie troviamo la Constantin Film. E questa Constantin Film si è occupata proprio della produzione dei film del franchise. Se questa cosa comincia a far distorcere il naso, secondo me arriveranno altri elementi che possiamo discutere. Appunto, la storia sarà divisa su due dimensioni temporali, su due piani narrativi diversi. Nel primo vedremo le sorelle quattordicenni Jade e Billie Wesker, che sembrano essere da quegli scampoli che abbiamo, sembrano essere le figlie di Albert Wesker. Troveremo queste due quattordicenni a New Raccoon City, città dove si trasferiranno e dove dovranno ambientarsi. Non so se da una serie su Resident Evil vi aspettavate la trattazione di problemi dell'adolescenza dei quattordicenni, sinceramente. Poi c'è un altro piano temporale, collocato dieci anni dopo, e a quel punto il mondo sarà andato allo scatafascio. Si parla di 15 milioni di persone in vita sulla Terra e di oltre 6 miliardi di creature zomboidi, persone animali infetti. Jade, una delle due sorelle, sarà cresciuta, l'altra non si sa che fine farà, e quindi probabilmente si troverà a dover sopravvivere all'apocalisse incombente. Quindi, tirando un po' le somme, io sono abbastanza perplesso. Perché? Resident Evil, a mio avviso, si presta a una lettura di tipo seriale. E sappiamo anche che ci sarà la serie prodotta da HBO di The Last of Us. Quindi, forse, questo prodotto da parte di Netflix è una sorta di risposta. Tra l'altro, fino all'altro ieri, sembrava che gli zombie, o comunque gli infetti di varia fogge natura, avessero rotto le balle un po' a tutti. Dopo la pandemia recente, era abbastanza scontato immaginare che saremmo tornati sul tema a sprombattuto. E potrebbe anche essere interessante trovare delle corrispondenze tra la realtà e la finzione. Però, visto che le serie Netflix di maggior successo sono di taglio teen, leggere che in un piano temporale le protagoniste saranno delle quattordicenni alle prese con i problemi adolescenziali non mi fa star tranquillo. Non mi fa star tranquillo neppure sapere chi sono i produttori. Ci sono gli stessi che ci hanno regalato una saga cinematografica che con i giochi avevano poco a che spartire. Poi certo, arrivano le dichiarazioni abbastanza incoraggianti del signor Dub che dice Resident Evil è il mio gioco preferito di sempre, sono entusiasta nel raccontare un nuovo capitolo di questa storia fantastica. E dice anche che nella serie saranno presenti molti vecchi amici, quindi qualche personaggio del cast storico dovrebbe fare capolino. Non sappiamo poi se questa serie andrà ad inserirsi nella continuità dei film, ma dubito altamente, oppure sarà un tassello che andrà ad inserirsi nella continuità videoludica. Questo non lo so, però se da un lato il soggetto, cioè la materia Resident Evil incuriosisce, dall'altro lato questo scampolo di trama non mi fa star tranquillo. Tutto mi aspettavo tranne che protagonista le sorelle quattordicenni che si trasferiscono in una nuova cittadina e devono badare i loro impulsi da teenager. Poi certo c'è l'altro piano temporale in piena apocalisse, però tra l'altro non è che partono piano, cioè nell'altro piano temporale ci sono sei miliardi di mostri. Il budget? Quanto sarà ingente? Storco un po' il naso, non sono convinto per il momento, poi magari arriveranno informazioni in più, un bel trailer succoso e allora comincerò ad essere incuriosito. Poi ripeto, vi parla uno che non è così addentro nelle dinamiche del franchise. Magari queste due sorelle sono personaggi già noti, che fanno parte della mitologia della saga, questo non posso saperlo, però non mi risulta, cioè da quel poco che so non mi risulta. Tra l'altro magari Albert Wesker a quel punto sarà un padre padrone, ma magari è anche un po' buono. Non lo so, me lo vedo come il padre della cheerleader di Heroes, non so. Vabbè, caro Chuck Jam, ti convince questa serie di Resident Evil per quanto ne sappiamo finora? Sappiamo poco, ci basiamo su questi scampoli di informazione appunto. Allora io arrivo da una visione di ieri sera di Train to Busan, qui mi sono proprio sul pezzo. Tra l'altro guardate di Train to Busan se non l'avete mai visto, è una figata. Però Resident Evil è stato il primo gioco che io abbia mai visto, perché mio zio aveva Tomb Raider 1 e Resident Evil 1. Io andavo da lui e avevo paura, ma lo guardavo. Mi è sempre piaciuto da morire Resident Evil, l'ho giocato praticamente a tutti i capitoli, tranne Nemesis e alcuni per la PSP. Però mi è sempre piaciuto Resident Evil. Detto questo, secondo me la questione Resident Evil è sempre stata un po' troppo sopravvalutata, perché non ha una trama, cioè la storia di Resident Evil non è così elevata, così profonda da trasformarla in qualcosa di effettivamente autoriale. Quindi non mi aspetto una serie autoriale, mi aspetto una serie tamarra. Quando, cioè i film sono un po' trattati male da tutti, anche a giusta ragione, però io ci sono affezionato perché? Perché quei film lì mi trasportano in una tamarraggine che è un po' quella che sentivo mentre giocavo ai videogiochi di Resident Evil, senza la paura, però la tamarraggine che mi trasmette è un po' quella, a parte gli ultimi, però il primo a me continua ancora a piacere da morire. Il fatto di utilizzare le figlie di Wesker è strano da un certo punto di vista, ma sappiamo che Netflix ormai le serie non le accetta più se non c'è il filone teen drama, perché ormai su quello marciano qualsiasi serie a un teen drama da parte. Abbiamo visto Curon in che cosa si è trasformato, quindi non mi stupisce sotto un certo punto di vista, bisogna vedere se il teen drama sarà come quello di Curon o come quello di Ilaus, perché anche in Ilaus ci sono queste due linee temporali in cui ci sono i bambini e gli adulti. Se riescono a fare qualcosa di interessante, i problemi non sono piacere a quel ragazzo che lavora all'Umbrella Corporation come assistente di mio padre, allora lì si può cominciare a parlare effettivamente di qualcosa di carino. Non lo so, cioè nel senso io sono contento che ci sia una serie di Resident Evil perché non sono troppo esigente in questo senso. Cioè nel senso è proprio una di quelle serie in cui io non sono troppo esigente perché non ci vedo tutta questa profondità, come per esempio un Silent Hill che è molto più complicato da trasmigrare in una serie televisiva, per esempio. E Wesker è un personaggio, io non me lo vedo tanto come padre padrone, ma è uno di quei personaggi che allenano le figlie di nascosto e sono molto severi, ma allo stesso tempo cercano di portare avanti le figlie, di portarle su un altro livello rispetto a tutti quanti, quindi ci saranno degli allenamenti segreti. Secondo me Wesker è un personaggio molto interessante e potrebbe risultare molto figo all'interno di una serie tv e come hai detto tu è seriale, cioè si presta molto alla serialità a Resident Evil. Quindi la gente si espressa molte volte su quello che vuole da Resident Evil, vuole lo spirito, quindi quella serie di Enigma, però quella paura di aprire la porta, quindi secondo me devono puntare sul tono e se puntassero effettivamente su un tono molto simile a quello dei primi videogiochi, oppure anche degli ultimi, perché comunque Resident Evil 7 Biohazard, nonostante abbia cambiato tante cose, è rimasto in pieno spirito Resident Evil ed è ottimo, compresi anche i remake, cioè del 2 e del 3 e quindi tanto di cappello. Mi piacerebbe vedere quello spirito lì e che non si muova troppo sullo spirito d'azione, ma come hai detto tu non so quanto budget ci sia, non credo sia così alto da potersi permettere le scene d'azione di un film hollywoodiano, quindi mi auguro che questo sia un incentivo a strutturare una sceneggiatura più studiata e un'atmosfera più studiata. Raccoon City è molto interessante, dovrebbe essere presa più in considerazione. Questa è New Raccoon City. New Raccoon City, vedremo. Ce ne hai mai parlato nei video game? Allora, io quando ho detto New Raccoon City ho detto ma mi suona ma non mi sembra di averle, cioè nel senso per me è sempre stata Raccoon City, quindi c'è l'esplosione, c'è la devastazione di Raccoon City, c'è la quarantena, c'è ci sono un sacco di robe, ma New Raccoon City, non so se forse nei giochi della PSP o cosa del genere, ditemelo voi nei commenti perché... Cioè hanno ricostruito una città, lì dovrà stata distrutta. Ma mi sembra molto strano perché la città viene distrutta perché era in quarantena, c'era l'ombrella eccetera eccetera, però comunque faremo vedere. Sono un po' scettico. Vedremo, poi magari invece la componente team è proprio limitata da questo soggetto, sembra preponderante, invece sarà ben gestita e poi i problemi che avranno saranno più che altro contestualizzati nel lavoro che fa il padre e magari nel primo emergere del virus. Non si sa. Tra l'altro, una roba che mi è piaciuta sempre dai film è la protagonista. Ci sono tante cavolate nei film, però la protagonista è risultata iconica, Alice comunque. Io la metto nel novero dei protagonisti di Resident Evil apocrifa, ma comunque ci sta. E quindi, cioè, se riescono a costruire dei personaggi femminili così ben architettati, perché comunque era un personaggio femminile forte, un po' alla Ellen Ripley, se vogliamo mettere, però un po' più sessualizzata, però comunque alla Ellen Ripley potrebbe essere anche interessante, visto che comunque Netflix sta seguendo questo tipo di proposte. Vedremo. Chissà chi sceglieranno come attrici per interpretare le figlie di Wesker, che siano bionde platinate, mi raccomando. E chi sceglieranno per Wesker? Quello è un casting interessante. Mi aspetto un attore abbastanza riconoscibile. Eh, ma sai, Wesker è molto... Cioè, basta che tiri indietro i capelli a qualcuno, gli metti gli occhiali, ne hanno cambiati tre durante il film, nessuno se n'è accorto. Cioè, nel senso... Magari cambiano un po' aspetto, non lo so. Beh, magari forse prima della pandemia potrebbe essere diverso, non lo so. Comunque ha sempre avuto gli occhiali anche nel primo, prima che scopersi tutti. Sì.